Adesso la stessa me la fai, vado in bianco, assumi una posa di svadiglio e mantieni la dinamica La voce è raddoppiata, allora tu ti vocalizzi e adesso devi farlo in questo modo, poi senza fretta, tranquillo E questa non è la voce con cui hai cantato, e se avessi cantato così, il suono sarebbe stato diverso Allora facciamo una cosa, proviamo a metterci anche delle altre vocali Aui, la gola però la devi tagliare sempre giù, la rigge giù Aui No, Aui Tutti uguali Tu non fai niente, lasci che la voce da solo, tieni solo la posizione, stai morbida gola gola E lasci andare la voce dove vuole andare L'importante è tenere sbadigliato Aui No, apri Aui Come hai fatto il primo vocalizzo? Allora, rifai la A A A Ecco, adesso, fammi Aui tenendo la voca aperta, quello che viene, viene Bocca e gola Aui Ecco, si modifica un po' Per la I Allora, per riuscire a tenere la valigia bassa, invece della I, quasi nessuno fa una I No, si camuffa, si camuffa, si aggiungono altre vocali in seno alla I, tipo per esempio I, I, oppure E, E verso la E, che poi non si percepiscono durante il canto, però danno spazio Vai in nuovo Aui La vedi che tu hai troppa fretta Io voglio sentire A Un tetare Uguali e con calma Sei agitato, via l'agitazione Fai una cosa, mettiti seduta Si vedi che stai rilassata tranquilla E adesso fai A O E Sì, come la cosa più semplice del mondo A O E Allora, nella A mi devi dare più O Poi A O E La I, questa non va bene perché ho un'altra vocale Cerca di avvicinarla più alla I, cercando però di mantenere lo spazio I, I, fai verso la U No, I Fammela vedere così, senza cantare, guarda I, I, I I No, senza la bocca I No, tu fai I Senza muore labbra I E no, è sempre I Mettici U dentro I Allora, facciamo una cosa, siccome non abbiamo tanto tempo Accontentiamoci della E per adesso Poi la I la vediamo insomma in un secondo tempo Quindi